Un piatto autunnale che esalta la zucca, regina della stagione. Raccogli una zucca piccola, parmigiano reggiano, aceto balsamico e erbe aromatiche. Pela la zucca e tagliala a pezzi di media grandezza. Cuoci la zucca al forno fino a quando diventa morbida e dorata. Crea una salsa con parmigiano reggiano graffugiato e aceto balsamico. Serve la zucca con la salsa e guarnisci con le erbe aromatiche. Grazie a tutti.